Come è stato sviluppato in collaborazione con un gruppo di lavoro Anidis? Seguendo analisi approfondite come richiede per esempio la norma, ma sulla base di un approccio basato su ispezioni visive o di un censimento sulla base di informazioni generali. Questo perché è stato sviluppato questo approccio? Per permettere una prima classificazione di un grandissimo numero di ponti, dell'ordine del centinaio e se non addirittura del migliaio, e poi sulla base di questa prima selezione effettuare analisi più approfondite. È risultato dall'applicazione nelle province di Pisa e Caserta che le problematiche e i risultati sono praticamente gli stessi sulle strade provinciali, quindi trovando un buon accordo tra questi risultati.